Con questo terzo video dedicato alla concorrenza perfetta andremo a vedere insieme le curve di costo dell'impresa nel breve e nel lungo periodo, la curva di offerta nel breve e nel lungo periodo della singola impresa, la curva di offerta di mercato di breve e di lungo periodo e quindi ovviamente avendo ormai descritto tutto andremo anche ad osservare l'equilibrio in concorrenza perfetta. Probabilmente in un altro video faremo qualche esercizio numerico per calcolare l'equilibrio, in questo ci limiteremo un po' a grafici e teoria. Quindi come vi dicevo poco fa, le curve di offerta di breve e lungo periodo sia della singola impresa che del mercato e l'equilibrio di concorrenza perfetta sono l'oggetto di questa video lezione. Poiché andremo a vedere un po' di curve di costo, per avere più informazioni di dettaglio su cosa sono le curve di costo, come si costruiscono e quali sono le relazioni fra di esse, vi ricordo che c'è il video dedicato alle curve ai costi dell'impresa, oltre al video dedicato ai ricavi dell'impresa e vi consiglio di guardarli perché alcune informazioni non le ripeterò in questo video, le darò per scontate perché sono trattate in quei video sui costi e ricavi dell'impresa. Ricordiamo che in concorrenza perfetta la condizione di equilibrio è quella che vedete rappresentata, e cioè prezzo uguale ricavo marginale e costo marginale. Quando questi tre sono uguali allora siamo in equilibrio ed è una caratteristica del mercato di concorrenza perfetta perché anche negli altri mercati imporremo ricavo marginale uguale costo marginale. Ma solo in questo abbiamo che tutti e tre, che anche il prezzo è uguale al ricavo marginale ed è uguale al ricosto marginale, è una caratteristica del mercato di concorrenza. Probabilmente in un altro video vi mostrerò perché si impone ricavo marginale uguale costo marginale, ma lo diamo in questo caso per scontato. Cosa può succedere nel breve periodo? L'impresa può trovarsi, semplificando, in quattro situazioni. Può decidere di produrre il bene e registrare i profitti. Può decidere di produrre il bene e coprire tutti i costi, quindi essere in pareggio. Può decidere di produrre il bene e coprire i costi variabili e una parte più o meno grande dei costi fissi, quindi registrerebbe una perdita ma continuerebbe a produrre perché coprirebbe tutti i costi variabili. Oppure può decidere di non produrre e questo è il caso in cui l'impresa non riesce a coprire neanche tutti i costi variabili. Lo vediamo graficamente. Queste sono le tre curve, costo marginale, costo medio totale e costi variabili medi di breve periodo. Vi rimando, come avevo detto, al video sui costi per capire come si disegnano e cosa rappresentano. Vediamo adesso le quattro situazioni. La prima è quella in cui il prezzo, quando andiamo ad incrociarlo, a trovare il punto di contatto col costo marginale, ci individua un punto che è superiore, che si trova in un punto superiore ai costi medi totali. In questo caso questa differenza in qualche modo ci va ad individuare i profitti. Perché? Perché l'impresa sta vendendo ad un prezzo che è superiore al costo medio totale, quindi ricava più di quello che spende per produrre e quindi sta registrando profitti. Oppure l'altra situazione che abbiamo indicato è questa, e cioè il prezzo è uguale al costo medio totale. Cosa significa? Significa che l'impresa è in equilibrio e in pareggio. I ricavi sono uguali ai costi. L'impresa decide di continuare a produrre e produce una quantità Q2 inferiore però rispetto al primo caso. Oppure, il terzo caso, il prezzo di mercato è tale per cui la nostra impresa riesce a coprire solo tutti i costi variabili, non copre nulla dei costi fissi, perché come vi avevo detto nel video sui costi, la differenza tra costo medio variabile e costo medio totale è appunto dato dai costi fissi. L'impresa continua a produrre, però è in un punto che discrimina tra produzione e uscita e decisione di non produrre. Se si va al di sotto del prezzo P3, quindi se si va al di sotto della copertura almeno dei costi variabili, quindi il caso P4, l'impresa è nel caso D, cioè decide di non produrre, e anche per questo non vi ho tracciato nessuna quantità sotto sull'asse orizzontale, proprio perché l'impresa decide di non produrre, in quanto non solo non copre i costi totali, ma non copre neanche tutti i costi variabili, quindi è una condizione peggiore. Ovviamente poi ci sono delle situazioni intermedie. Se siamo sopra P1, l'impresa produce registri ancora più profitti. Se da P1 ci avviciniamo a P2, i profitti si riducono. A P2 i profitti si azzerano. Tra P2 e P3 l'impresa copre tutti i costi variabili e una parte più o meno grande dei costi fissi. Più siamo vicini a P2, più sono i costi fissi coperti, più siamo vicini a P3, meno sono i costi fissi coperti. Se siamo sotto P3, come vi ho detto poco fa, non solo non copriamo i costi fissi, ma non copriamo neanche tutti i costi variabili. Quindi queste sono le situazioni. La particolarità è che la parte della curva di costo marginale di breve periodo, che si trova al di sopra del punto di chiusura, del prezzo di chiusura, cioè quel prezzo che ci faceva coprire almeno tutti i costi variabili. Quindi questa parte del costo marginale è l'offerta dell'impresa in concorrenza perfetta, ovviamente di breve periodo. È una caratteristica, quindi ricordatevi questa particolarità, che è la curva del costo marginale di breve periodo, che si trova al di sopra del prezzo di chiusura, è l'offerta dell'impresa in concorrenza perfetta. Cosa avviene nel lungo periodo? Beh, l'impostazione è la stessa, però ci sono due differenze. La prima è che c'è solo una curva di costo medio, quindi una curva di costo in meno. Perché? Perché nel lungo periodo si presume che tutti i costi siano variabili, che non ci siano costi fissi, perché l'impresa può variare tutto all'interno della sua struttura produttiva. E quindi abbiamo una sola curva di costo medio, che sarà la curva di costo medio totale. L'altra caratteristica è che la curva di costo marginale è più piatta, e anche l'altra curva è un po' più piatta, perché l'impresa può variare tutti i fattori produttivi, appunto. Quindi l'impresa in senso lato è più elastica, però anche le curve in qualche modo sono più elastiche, l'impresa come dire si può muovere di più, non ha costi fissi, e quindi anche le curve devono in qualche modo essere un po' diverse rispetto al caso del breve termine, del breve periodo. Quindi c'è questa differenza. Anche in questo caso, costo marginale, costo medio, e vi ho riportato tre casi. Nel caso in cui il prezzo sia P1, registriamo profitti, qui siamo nel lungo periodo. Nel caso in cui il prezzo sia uguale a P2, l'impresa copre tutti i costi medi, quindi i ricavi sono uguali ai costi in quel punto, quindi l'impresa decide di rimanere sul mercato, di produrre Q2. E' il caso del pareggio di bilancio. Si suol dire che in quel punto l'impresa registra il profitto normale, e che in concorrenza perfetta il profitto normale è il profitto nullo, quindi l'impresa non dovrebbe produrre profitti. Al di sotto di quel punto c'è una perdita, e l'impresa esce dal mercato. Quindi al di sotto di P2, l'impresa esce dal mercato e decide di non produrre. Nel lungo periodo, la stessa deduzione che abbiamo fatto nel breve, e cioè quella parte della curva di costo marginale che è al di sopra del prezzo di uscita dal mercato, rappresenta l'offerta di lungo periodo della nostra impresa, di concorrenza perfetta. Quindi ricordiamoci, in entrambi i casi c'è un punto che è al di sopra del quale la curva di costo marginale rappresenta la nostra offerta, sia nel breve che nel lungo termine, che nel lungo periodo. Mettendo insieme offerta di breve periodo e offerta di lungo periodo, è questo il grafico che viene fuori, con i due prezzi che discriminavano tra nel breve e nel lungo periodo, tra appunto produrre e non produrre. Questo per la singola impresa. Per il mercato cosa avviene? Per il mercato dobbiamo sommare tutte queste curve in modo orizzontale. Quindi dobbiamo fare una somma orizzontale delle curve di offerta. Cosa avviene fuori? Verrà fuori una curva di offerta di mercato che sarà più piatta, perché la somma orizzontale fa sì che la curva divenga più piatta, ma ci sarà sempre questa differenziazione tra breve e lungo periodo. Quindi avremo tutte le imprese, imprese A, imprese B, via dicendo, sommandone orizzontalmente, arriveremo a definire l'offerta di mercato di breve periodo e di lungo periodo, che hanno, come vi dicevo, la stessa conformazione, sono però ancora più platte, perché in qualche modo è come se andassimo a considerare tutte le imprese messe insieme, e quindi tutte le imprese messe insieme ci danno al mercato una elasticità maggiore, possiamo dirla in questi termini, e quindi per questo la curva di offerta di mercato è ancora più elastica rispetto a quelle delle singole imprese. Arriviamo quindi all'equilibrio, quindi abbiamo fatto tutto il percorso per arrivare a definire le offerte di mercato, la curva di offerta di mercato, adesso facciamo incontrare la domanda e l'offerta per arrivare a definire l'equilibrio di mercato, questo è molto semplice, questo equilibrio di mercato poi andremo a capire quali risvolti ha per l'impresa, quindi in qualche modo stiamo facendo il ragionamento opposto che abbiamo fatto all'inizio, però adesso lo vediamo graficamente. L'incontro tra domanda e offerta di mercato va a determinare il prezzo di equilibrio, questo prezzo viene preso, ricordatevi nelle lezioni introduttive che questa impresa in concorrenza perfetta è price taker, quindi prende il prezzo, quindi il prezzo viene preso dalla singola impresa e si osserva se per quel dato prezzo essa registra profitti, perdite o se è in pareggio. Partiamo dal breve periodo, abbiamo la domanda che è la nostra tipica forma, abbiamo l'offerta di breve periodo del mercato, l'incontro tra le due ci va a determinare il prezzo e la quantità di equilibrio di mercato. Questo prezzo, Pistella, Pistar, chiamiamolo come vogliamo, viene preso dalla nostra impresa, quindi lo possiamo trasferire nel grafico della singola impresa e cosa osserviamo? Osserviamo, qui ho fatto un caso qualsiasi, che questo prezzo per la nostra impresa nel breve periodo va a comportare una lieve perdita. Perché? Perché siamo al 18 del costo medio totale. Se l'equilibrio a sinistra di mercato ci avesse portato ad un Pistella, ad un Pistar superiore, molto superiore, a destra avremmo registrato dei profitti. O se questo Pistar fosse stato ancora più in basso avremmo registrato una copertura, non solo, magari una copertura ancora inferiore dei costi totali, dei costi fissi e a destra potremmo finire al di sotto della curva dei costi variabili, dei medi variabili. Quindi, ciò che succede a sinistra lo riportiamo sulla destra e andiamo a capire qual è la situazione. In questo caso io vi ho riportato un caso, uno dei casi che comunque abbiamo visto in precedenza, con il prezzo di mercato che va a determinare una lieve perdita per la nostra impresa. Cosa succederà in questo caso? Potrà succedere tra tutte le imprese che alcune imprese decideranno di uscire dal mercato, che altre imprese magari più efficienti decideranno di entrare e quindi si andrà magari a modificare l'offerta di mercato. Questo è quello che succede ad esempio nel mercato di concorrenza perfetta che quindi la libertà di ingresso e di uscita come avevamo definito nel video introduttivo di questa forma di mercato permette al mercato in qualche modo di adeguarsi alla situazione e questo è quello che vediamo nel lungo periodo perché cosa avviene nel lungo periodo? Avviene che l'offerta si muove si muoverà verso sinistra e in alto verso destra e in basso fin tanto che le imprese continueranno ad entrare e ad uscire dal mercato. Perché le imprese continueranno ad uscire e ad entrare nel mercato? entreranno e usciranno in base ai profitti se nel mercato si registrano profitti le imprese che sono fuori dal mercato lo vedono e quindi decidono di entrare e di produrre e in quel caso l'offerta aumenterà ma aumentando l'offerta il prezzo si ridurrà e si ridurrà fino al punto di equilibrio di annullare i profitti se invece l'equilibrio andrà a comportare delle perdite per le imprese nel mercato queste imprese usciranno dal mercato ma uscendo dal mercato l'offerta si sposterà verso sinistra facendo aumentare il prezzo e il prezzo aumenterà fin tanto che non si arriverà a dei profitti nulli quindi la particolarità del mercato di concorrenza perfetta è che questa libertà di entrata e uscita dal mercato permette al mercato di andare in equilibrio in automatico e questo equilibrio comporterà che le imprese registreranno tutte profitti nulli quindi il prezzo di lungo periodo del mercato andrà ad essere uguale al minimo del costo medio di lungo periodo quindi le imprese copriranno tutti i loro costi ma non di più ma né di più né di meno quindi né potranno registrare i profitti né registreranno perdite perché ripeto nel caso in cui si andassero a registrare i profitti entrerebbero nuove imprese nel mercato l'ingresso di nuove imprese farebbe aumentare l'offerta l'aumento dell'offerta farebbe ridurre il prezzo fino al prezzo che ci va a comportare l'annullamento dei profitti se invece il prezzo fosse più basso dell'equilibrio ci sarebbero delle imprese in perdita le imprese uscirebbero dal mercato perché appunto in perdita non ci rimangono nel mercato è meglio non produrre perché se no registro perdite però riducendo il numero di imprese nel mercato cosa succede l'offerta di mercato si sposta verso sinistra e verso l'alto e quindi il prezzo aumenta e quindi si ritorna al punto di equilibrio che è quello che vedete visualizzato quindi l'equilibrio di lungo termine di lungo periodo del mercato di concorrenza perfetta prevede che le imprese non registrino profitti profitti siano nulli se non ci sono profitti nulli ma ci sono profitti positivi o perdite il mercato si va ad aggiustare da solo grazie alla possibilità delle imprese di entrare e uscire liberamente quindi riassumendo nel breve periodo l'impresa può registrare profitti perdite o essere in pareggio l'unica particolarità è che nel breve periodo devo riuscire a coprire almeno tutti i costi variabili se copro tutti i costi variabili allora l'impresa continua a rimanere nel mercato se non copro neanche tutti i costi variabili l'impresa esce nel lungo periodo cosa succede grazie alla libertà di entrata e di uscita delle imprese dal mercato che è una caratteristica fondamentale nel mercato di concorrenza perfetta l'equilibrio di concorrenza sarà quello che produce un profitto nullo per l'impresa l'abbiamo visto nel grafico precedente e questo profitto nullo si registra quando il prezzo è uguale al costo medio-minimo di lungo periodo e quindi cosa succede che i ricavi totali dell'impresa saranno uguali ai costi totali quindi l'impresa non registrerà profitti ed è il caso di equilibrio del mercato di concorrenza perfetta quindi siamo arrivati a capire che nel mercato di concorrenza perfetta grazie alle sue caratteristiche che abbiamo descritto nel primo video teorico si arriva ad un equilibrio in cui c'è produzione però le imprese non registrano profitti perché le caratteristiche del mercato fanno sì che se ci sono profitti entrano nuove imprese si riduce il prezzo e quindi i profitti si annullano se ci sono perdite escono imprese dal mercato l'offerta si riduce il prezzo aumenta e si arriva al punto di pareggio nuovamente questa è una caratteristica importante del mercato di concorrenza perfetta che dovreste appunto ricordare per sempre e che la distingue questo mercato dagli altri mercati come ad esempio il mercato di come ad esempio il monopolio che vedremo in altri video quindi siamo arrivati a definire l'equilibrio in concorrenza perfetta e il prossimo step sarà quello di presentare qualche esercizio per capire numericamente come si calcola l'equilibrio in concorrenza perfetta però a livello come dire di teoria e di grafici sostanzialmente abbiamo visto tutto quello che si poteva vedere sulla concorrenza perfetta se rimane qualche dettaglio magari potete richiedermelo o farmi qualche domanda nei commenti come al solito quindi spero che il video vi sia stato utile vi abbia chiarito tutti i dubbi possibili su questo mercato se no come vi dicevo potete fare qualche commento in basso se il video appunto vi è stato utile potete lasciare un like in modo tale che fate crescere il canale vi ricordo che potete iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati attivando la campanella per avere gli alert e infine ricordatevi che il faro dell'economia è presente anche su facebook e potete seguire la pagina facebook per avere informazioni di attualità sull'economia e la finanza di attualità di attualità Grazie a tutti